Notte di sangue nella Sicilia centrale. Uno schianto mortale avvenuto ieri sera lungo la strada tra Menfi e Sciacca nell'Agrigentino. Una donna di Salaparuta ha perso la vita nell'incidente stradale che si è verificato lungo la statale 115 all'altezza dello store 1 euro alle porte del centro abitato di Sciacca in provincia di Agrigento. Per cause ancora in corso di accertamento si sono scontrate frontalmente due autovetture, una Jeep Renegade e una Opel Corsa. A bordo di quest'ultima vettura nel sedile posteriore viaggiava la vittima. Gli altri due occupanti dello stesso mezzo, il conducente e il passeggero del sedile anteriore, sono rimasti feriti e sono stati trasportati all'ospedale di Sciacca insieme al guidatore della Renegade. Il traffico lungo la strada statale 115 è rimasto interrotto per alcune ore. I veicoli in transito sono stati deviati su arterie alternative. La statale 115 resta una delle strade più pericolose d'Italia. Numerose gli incidenti mortali nel corso degli anni che hanno segnato i 383 km di percorso lungo ben 5 province, Trapani, Agrigento, Caltanissetta, Ragusa e Siracusa.